bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi ragazzi vi spiego come fare questa settimana soldi e rp giocando con i vostri amici senza neanche far colpi raga andremo a fare circa 500.000 al giorno e non sono niente male io inizierei dall'rc bandito e battendo il tempo ci daranno 100.000 ragazzi e siamo già 100.000 poi raga settimana bomba per questa gara a tempo rp doppi e potremmo farla tutti i giorni quindi per una settimana raga battendo il tempo prenderemo 100.000 invece di 50 e lo potremmo ripetere tutti i giorni questa invece è quella di ao regà esclusiva next gen e questa qua ci darà 250.000 poi raga c'è la solita prova a tempo per tutte le piattaforme e sono altri 100.000 quindi ragazzi se io non sbaglio i conti tornano sono più di 500.000 sono 550.000 che possiamo fare oggi ma poi raga non dimentichiamo che ci sono queste gare con gli rp tripli e raga sono illegali sono sottovalutate io vi consiglio di farle se siete anche amanti un po delle gare perché salite di livello facile e cercate di pensare che fate la media di 80.000 a gara fate 10 gare vi siete già fatti il bel gruzzoletto e non contiamo gli rp che se arrivate delle prime posizioni raga guadagnate un sacco di rp parliamo di 15 20.000 25.000 rp sono veramente tanti se invece siete un po più nel chilling ragazzi vi piacciono f1 vi fate queste qua stante ci sono anche queste qua col trust con gli rp tripli che sono un po più chill sono un po meno grintose però vi fanno sempre guadagnare un botto raga facendo ciò non c'è bisogno che ve lo dico lo immaginate lo capite da soli arrivate presto a un milione al giorno giocando in questa maniera poi aggiungiamoci le vendite del night le vendite del bunker raga è facile facile fare soldi ovviamente ci sbattiamo dentro magari un caso bogdan qualche colpetto e raga non serve neanche alla fine duplicare fare egli se siamo un gruppetto di gente tipo tre o quattro persone che ci aiutiamo a vicenda mi raccomando vi ricordo che le attività quelle in ex gen quella normale e le rc bandito la potete fare solo una volta alla settimana poi non vi pagherà più quindi lasciate un like e lasciate un commento se vi è piaciuto il video e alla prossima sbada ciao ciao ciao